Oggi è una nuova occasione per riprovarci. Sì, purtroppo ieri non siamo riusciti a fare un risultato che ci aspettavamo. Oggi è sicuramente un'altra occasione, vedremo di sfruttarla. Cosa è successo ieri? Nel finale o cosa non ha funzionato? Ma semplicemente siamo rimasti un po' troppo dietro e non siamo riusciti a organizzarci per venire davanti. Poi abbiamo provato nel finale, ma nella parte sbagliata del percorso hanno passato per sinistra. E siamo un po' tagliati fuori dai giochi. Come è successo però, ho visto che è successo anche tanti altri velocisti come Viviani, Graeppel, che erano anche ben organizzati. Quindi alla fine è stata un po' una volata particolare. Vediamo oggi di fare meglio. Avrai nel finale qualcuno che ti proverà a pilotare avanti o dovrai stare a ruota di Kittel o chi per lui? Ho sempre i miei uomini della mia squadra, però vedendo un po' come si corre nel gruppo, tante volte è meglio arrangiarsi anche da soli, cercare di portarsi avanti da soli e poi magari trovarsi nel finale con gli altri per fare qualcosa. Quindi vedremo un po' in base a come si svolgerà la corsa per organizzarci. Grazie.